Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna per traffico intenso, coda tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bibio per la variante di Valico e tra Aglio e Firenzuola. Sulla A12 segnalati materiali dispersi tra Pisa Centro e l'allacciamento per la 11, controllo della velocità tra Livorno e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla regionale 69 di Valdarno senso unico alternato all'altezza del chilometro 26 nel comune di Fighine Incisa. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!